La saga pluripremiata L'attore australiano è stato fotografato in vari posti dell'isola, ma in particolar modo Nelll a Baia di Carta Romana, dove è stato ripreso mentre sfrecciava a bordo di un bellissimo Yacht Riva. Altre scene sono state girate nel P.O.R.T.I.C.C.I.O.L.O.D.S.A.N.T.A.N.G.L.O. Con una passeggiata di I.H.E.M.S.W.O.R.T.H. Con l'attrice A.F.R.O.A.M.E.R.I.C.A.N.A.T.S.A.T.O.P.son. Le scene sono state girate tra pescatori e fruttivendoli, gente comune e turisti, i quali hanno ricevuto circa 100 euro lorne per fare da comparse nel film. Alla fine delle riprese di qualche giorno F.A.C.R.I.S.H.E.M.S.W.O.R.T.H. è stato seguito da tantissimi, fa una caccia di autografi, e si è prestato, anche a tanti selfie tra Ischia Ponte e a Sant'Angelo. Le dichiarazioni di Chris Hemsworth Ischia. Bellissima, straordinaria come tutta l'Italia. Siete fortunati a vivere in un paradiso come questo, siamo stati letteralmente conquistati. Siamo orgogliosi e certi che le immagini della nostra terra, veicolate da un film così importante, possano contribuire al rilancio dell'immagine di Ischia, ha sottolineato l'assessore al turismo di Serrara Fontana, Emilio Giuseppe Di Meglio. .